Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente su Universim. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate il link sia per coprire il gioco che per partecipare al giveaway mensile. Oltretutto, a breve, ci sarà anche il Black Friday, che sinceramente a me non interessa tanto, ma forse forse qualcosa, qualche giocattino nuovo da portare mi compro, perché ci saranno gli sconti e quindi è una buona cosa. L'ultima volta ci eravamo lasciati che stavamo passando finalmente all'età medievale, infatti tutte le strutture qui stanno cambiando e dovrebbero diventare tutte quante col nuovo stile, ovvero con tutta la pavimentazione carina e tutto. A parte questo, non ricordo un granché di altre cose, non so se stavamo facendo altre robe interessanti oppure no, ma basta andare qui e vedere dove eravamo rimasti con la progressione generale. Ovviamente, architettura Tudor, che è quella medievale. Stavamo già provando a fare idrologia, fabbro, disboscamento, reti da pesca e come prossime cose io direi che ovviamente le più importanti sono subito quelle dopo. Quindi Corrieri, Governo, miscelazione del cemento, ok, potrebbe essere buono, e forze dell'ordine. Ah, forse questo, esatto, stazioni di polizia, questo che la sblocca. Io pensavo che fosse una cosa che avevo già visto in passato, ma non mi ricordo cos'era. Cosa stavo guardando? Forse fort... no, non fortificazione, impossibile. Boh, stavo guardando un'altra cosa, ma si vede che non c'entrava molto. Comunque c'è forza dell'ordine, ottimo. Così arrestiamo tutti i lezzi. Qua c'è qualcosa che sta crollando, perché? Perché l'hanno fatto al di fuori, c'è anche una famiglia dentro. Eh sì, mi sa che l'hanno creato un pochettino fuori dal range dei tipi che riparano le robe. Cioè, detto così, vabbè, lasciamo stare. Idrologia ricerca completata, allora mi porto subito avanti con Corrieri. Tra l'altro, idrologia. Ecco qua, abbiamo gli apicredi su tutte le cose. Perché qua c'è questo pochettino? Ah, perché non c'è nessuno. Va bene, siamo 140 abitanti in tutto. Non so quanti siano disoccupati, però... Bah, sì, dai, in verità lo faccio... lo faccio subito. No, no, non è vero, non è vero. Prima pensiamo a migliorare tutto questo. Allora, questo qui ovviamente migliora quant'acqua prendiamo, e questi quant'acqua possiamo tenere. Quindi facciamoli tutti. Attualmente siamo 19 su 30, quindi io spero... Boh, non che raddoppi, ma qualcosa di simile, ecco. Mentre questo qua produce 80. E ne abbiamo ben tre. Ma che belle le case! Qui chi c'è? Cosa vuoi te? Cosa vuoi? Vuoi una mano per qualcosa? Indipendentemente da ciò che faccio, con Tzuval si rifiutano di adottare alcuni vestiti. Che senso? Devo usare il potere divino del cambio stagione. Se si avvicina all'inverno, potenzialmente sì, ma se siamo in estate eviterei anche, cioè l'inverno non dobbiamo schippare ovviamente. Anche perché non voglio di certo andare in inverno con tutte queste cose qui non migliorate. Tra l'altro questa qui l'ho messa prima, l'ha migliorata? No. Però questa è stata già facendo. Eh, ma non dice a quanto sta. Vabbè, velocizziamo un pochettino. Eccolo qua. Prima teneva 30 e ora addirittura 65, cioè è più che raddoppiato. Mamma mia, ma è bellissimo! E ora sta cominciando a sistemare anche questo, cioè appena si liberano, perché purtroppo sono tutti occupati. Dai, ho deciso, facciamo anche un'altra spedizione che qui se no è la fine. Dai, 17 minuti di spedizione. È perfetto! Così riusciamo anche a vedere che tornano e cosa riescono a trovare. Tanto ne abbiamo fatte anche di più lunghe le spedizioni. Magari nel prossimo video se lo facciamo veramente più lungo e in teoria riuscirei a farcela. Magari facciamo una di quelle spedizioni lunghissime. Però, raga, il problema è che cioè ho fatto 5 persone istruite, diciamo, e 5 ignoranti, 10 in tutto. E con 10, cioè, non è una grande spedizione. Dove trovare un modo per fare una spedizione un pochettino più grande, perché purtroppo in 10 portano poco peso e quindi non riesco a fare chissà che cosa. Peralta hanno già trovato delle cose. Epico motore perpetuo, rara bussola sotterranea. Già così? Beh, mica male. Qui hanno fatto, oh mio Dio, non lo riconoscevo più, è questo qua. Produzione 120. E prima era 80, forse? Boh, potrebbe essere. Buono buono. Mentre questo era il magazzino. Ecco, ma il magazzino non è che si è migliorato. Prima era veramente un magazzino, invece ora è una cosa tipo a cielo aperto, così. Sembra quasi un mercatino. Mmm, non mi fa impazzire. A meno che non sia sotterraneo. Ma non penso, no. Sono le cose buttate qua sopra, si vedono. Cosa vogliono qua? Un gruppo di nugget è iniziato a pregare all'unisono per un momento di quiete in cui celebrare la bellezza della natura. Cioè, la risposta a tutto questo è no, le industrie del futuro devono accettarlo. Possiamo dedicare qualche momento per cercare... Beh, sì, possiamo, possiamo, sì, possiamo. Tanto mi stanno chiedendo di levare la corrente, ma ragazzi, cos'è che va a corrente? Noi abbiamo una batteria... Ah no, cosa? Le case hanno già la corrente? Ma io non pensavo! Cioè, io pensavo di staccare la corrente a nulla perché noi abbiamo queste cose qui che producono effettivamente corrente, la batteria che lei magazzina, ma non pensavo che le case già la utilizzassero. Allora, forse non siamo proprio medioevo, ecco. In tutto questo ho sbloccato il fabbro. Dove sta? In difesa? Caserma. Ecco, ok. Sono felice di averla sbloccata, ma cosa c'entra la caserma con il fabbro? E intanto la metto qui, vicino al cimitero, chi se ne frega. No, penso di aver sbloccato un'altra cosa anche. Eh no, era la caserma. Ah, ecco l'altra volta! Per sopprimere le ribellioni, forse avevo sbloccato fabbro, che appunto andava a sbloccare la caserma, e pensavo che la caserma potesse servire. Era quella, sì, sì. E vabbè, massima priorità assolutamente, vediamo un attimino cosa ci facciamo, ma probabilmente la caserma ad essere a qualcuno fare qualcosa. Il senso della moda di Sicosoli sta prendendo piare e tutti i miei amici stanno buttando via i loro vestiti. Quello è perché non ho cambiato la stagione. Va bene, va bene, ho capito, ho capito. Cambiamo stagione, dai. E che odio spendere i miei poteri così, assolutamente. Cosa metto? Metto inverno, quindi. Sì, perché questi si stanno spogliando tutti. Ma quanto speso, mamma mia. E vabbè, mu si vestono però, sicuro. Altro che buttarli via. Se no, d'inverno fanno una brutta fine. Certo che me la vado a cercare. Io odio l'inverno e l'ho messo di proposito. Mannaggia a quello. Che votazione c'è qua? Nugget meno incline al pregiudizio. Meno 15% possibilità di infortuni. Buono. Meno 90% per la produzione delle medicine. Buono lo stesso. Felicità più 10. Consumo cibo più 100. Allora, consumo cibo più 100 d'inverno potrebbe non essere il massimo, ma alla fine possono andare bene tutte. Oh, meteore. Ah no, alieni, alieni, è vero. Andiamoli a cercare. Eccoli qua. Tanto si è vi... Uuuuh, l'incendio lì. Lasciamo stare, va. Un colpo, due colpi. Olè. Ma è caduto sul... Ma, ragà, per poco non scatenavo una guerra. Non so, ah, se fosse caduto da loro non so cosa sarebbe successo, ma se messavo il fulmine e lo tiravo qua era un casino, veramente. La squadra sta tornando. Bene. Quindi andiamo di telecinesi, prendiamo questo e portiamocelo a casetta. Eccoci qua. Mettiamolo al centro. La caserma come procede? Eh, vabbè. Manca ancora tanto. Manca il cemento. Ma scusatemi, il cemento non era dopo? Allora, qui abbiamo governo. Qui abbiamo miscelazione del cemento. Sblocca il cementificio. Cioè, voi mi state dicendo che il fabbro sbloccava una cosa che non posso costruire fino a che non arrivo qua. E il fabbro di sé per sé non fa niente. Cioè, non è una struttura, non è nulla. Ok, va bene. Ho lasciato una struttura a metà però la finiremo oggi, almeno quello sì. Chi ha vinto, quindi, meno 15% e passava di fortuni. Beh, ci piace, dai. Festeggiamo. Tutti felici, che bellini. Ancora per poco, eh. Cioè, sono felici ora che c'è ancora l'acqua. Tra qualche giorno... Mmm. Volevo però fare un'altra cosa. La parte di cui abbiamo sbloccato una struttura, ma vedremo dopo. voglio andare... Eh, non mi ricordo dove sia. Ah, eccolo qui, ingegneri. Perché, effettivamente, non so se coprono tutta la zona. Ok, sì, per fortuna coprono tutto. Però, giustamente, i main aghettini si espandono dove sanno che possono espandersi. Perché ci sono ingegneri che costruiscono. Quindi, sarebbe una buona cosa mettere un altro aggeggio di ingegneri da qualche parte qui. Da questa parte, però, ci avviciniamo drasticamente al villaggio degli altri, che non pensavo fosse così vicino. Che tra l'altro c'è anche un mega incendio qui da loro. Quindi, mi andrei a espandere verso nord delle montagne, che in realtà è un'ottima cosa. Facendo così, appunto, sblocchiamo le costruzioni in questo punto qui, che potrebbero essere buone per magari minerali, per la pietra, e robe di questo tipo. Quindi, perché no? E soprattutto, possiamo schivare il villaggio là e andare a prendere il resto del pianeta. Anche perché da quest'altra parte non si può. C'è l'acqua. Ci avviciniamo anche tanto, oddio tanto, un pochettino, a questo. Che è un deposito di un botanium. Risorse misteriose. Mi porta a... Uh, è qua in fondo. L'estrattore. Ma è molto, molto più in là. Beh, un giorno ci arriveremo. Intanto qui ho due slot liberi, quindi assolutamente municipio e miscellazione del cemento. Mentre da quest'altra parte avevo sbloccato una cosettina. Ma cos'è? Attività locale. Ci leva l'acqua. Crimine a zero. Felicità a tre. E mettiamolo, dai, che questi qui ogni volta rompono, che sono tutti tristi. Lì non c'è mai nulla da fare in questa città. Uh, dai, la metto in questo punto qua, così. Retira pesca, ricerca completata. Posso pescare di più? Controlliamo. Assolutamente sì. Richiesto ferro, che dovremmo avere, e vetro, che dovremmo avere. Oddio, il vetro... Cavolo. Avevamo una vetreria? O era una cosa che faceva bottiglie? Non mi ricordo nulla. Lavorazione del vetro? No, che ce l'abbiamo. Si chiama vetreria? Non penso proprio. Vetrificio? Vetri... Vetri qualcosa? Forse. Va bene. Ci siamo capiti. Questi qui poi sono tornati? Morale aumentato di 11. Cibo è diminuito, vabbè, bla bla bla. Le pepite istruite, due si sono stancate, cinque pepite non istruite si sono stancate. Ebbè, andato, sono tornati, quindi cosa cambia? Ah, non sono tornati, stanno tornando. Ma quindi quelli non istruiti si sono stancati prima. Quindi sono loro potenzialmente che rallentano. Devemmo mettere solo persone istruite per la spedizione. Solo che sono tutti una marea di ignoranti lezzi. Per caso, i nostri vicini si stanno espandendo o rimangono lì? Perché a me sembrano... Cioè, la cupolina era quella. Ok, sì, forse qualcosa come queste qui più a lato non c'erano effettivamente. Però, non mi sembrano molto avanti. Anzi, rispetto a noi sono assolutamente indietro. Ma... Ah, ok, chissà se si espandono o no. Stanno appena costruendo qui una casa nuova. Però molto, molto lentamente. Il fatto è che quella cupola che hanno mi sa che è una cosa con cui io non posso interagire. E quindi... Quindi niente, devo trovare il modo di distruggere perché dobbiamo dominare assolutamente noi su questo pianeta, non altri. Mi è arrivato anche l'alert della spedizione finita, quindi andiamo a riscattare tutto. Ok. Di cibo si è messi male. A parte che il mio magazzino, ragazzi, cioè, ma io sto trollando. Cos'è sto magazzino? 300 su 300. Ma siamo seri? Facciamolo nell'altro poco è meglio. Ma anche sparsi a giro per la città, non si sa mai. Insomma, le scorte sono importanti. Non so se è prevista una dinamica di carestia o robe simili, ma è meglio prevenire che curare. Soprattutto se non so dove mettere le cose è un bel casino. Ma poi io dico, ad esempio, il ferro lo sto producendo, mi sembra, e qua ne ho zero. E dove ce l'ho? O non lo sto producendo? Cosa abbiamo qui? Miniera di gas e ce l'abbiamo. Cioè, l'ho visto che c'è. Miniera di pietra, ingegneri, lavorazione del vetro e miniera di ferro. E ha 100 di ferro qua. Deposito locale per il prodotto finito. Ah, quindi si sono fermati perché tutto quello che hanno estratto l'hanno lasciato nella miniera perché non potevano metterlo nel magazzino. Appunto 100 pezzi e ogni magazzino ottiene 300. No, ragazzi, ne ho messi altri due ma a questo punto assolutamente non basta. E ho sbloccato qui anche un'altra cosa, il capanno dei taglialegna. Come l'ho sbloccato ora? No, no, fermi, fermi, fermi. Allora, continuo a mettere altri magazzini a giro per la città e non mi torna questa cosa dei taglialegna. Quindi, ora cerco di vederci un attimino chiaro. Anche perché i tipi quando vanno a prendere le risorse e le estraggono le vanno a mettere appunto nel magazzino quindi avere un magazzino vicino a dove vengono estratte le risorse potrebbe non essere male. Detto questo, capanno dei taglialegna, raffineria della pietra. Ah no, mi sto confinando con la raffineria, mi sa, perché il capanno non si è mai fatto allora. Non penso abbia bisogno di qualcosa se non della legna intorno, anzi, nemmeno della legna intorno. Mi sa che la prende direttamente da quella che abbiamo già tagliato noi quindi boh, mettiamolo qui a caso. C'è un po' di roba da costruire e anche bella costosa quindi dovremmo aspettare un pochettino. Cos'è sta zona rossa? Ehm, non è il... la meteora che cade, vero? O è questo? Feroce nemico delle pepite. Posizione un campo di legname in modo che le pepite possano reagire. Distrugge alcuni alberi per compiacere Cotik 6. Un campo di legname? Non ho capito. Cioè, devo, devo rimuovere, devo rimuovere questi alberi io. Ma ho pochissimo tempo. Cioè, ho 10 minuti. Ma come faccio, ragazzi, c'è un campo... Vediamo un attimo. Ah, era il capanno quello di prima. Eh, che cavolo, ma io non posso metterlo qua, ragazzi. Non c'è spazio. Cioè, io l'ho messo laggiù, ma spero che una volta fatto vada a tagliarla anche qua. Che non lo posso mettere qui, veramente. Non c'è spazio. È impossibile. Intanto, diamo priorità massima. Posso dirlo? Nel peggiore di casi, vado di fulmine, mi sa. No, ragazzi, sono troppo lenti. Cioè, sono già passati 5 minuti e qui hanno a malapena messo del vetro. Corriere, ricerca completata. Vediamo cosa possiamo mettere di nuovo. E abbiamo il capanno di corriere, giustamente. Si mette anche questo qui vicino al cimitero. Qua hanno quasi tutte le risorse, però secondo me in 3 minuti non ce la fanno a costruire, veramente. Anche perché poi, devo dire io, che devono tagliare qui. Cioè, non penso ci vadano loro e non so nemmeno se posso veramente dirglielo. 10%, 11, 12. Beh, in 2 minuti ce la fa. E che poi non riescono a tagliare gli alberi. 98, 99 e 100. Come pensavo? Non penso di poterlo decidere io. Quindi un problema. 20 secondi mancano, raga. Io faccio un mega fulmine lì da qualche parte. Spero che gli possa bastare. Oh, così. Bastava così poco, veramente. Però è un problema ora, perché giustamente si espandeva ovunque. Quindi andiamo in influenza. No. Ok, creazione. E facciamo piovere in questo punto. Sì, mi è costato un po' di punti, ma almeno non è successo quello, che, boh, non so cosa fosse, ma riuscivano mostri dalla foresta o gli alberi prendevano vita. Insomma, meglio non rischiare perché magari facevano poi danni a tutto. Sovraccarico. Ancora un altro problema. Da Mammozone. I nostri compagni Nugget stanno spendendo così tanto tempo e, lo so, energia trascinandosi dietro ogni cosa. Deve esserci un modo migliore. Sento l'odore di possibilità per un business. Aiutami per favore. Ma, posiziona un courier sat per avviare attività di Nef Nugget. Vabbè, lasciamo stare. Ma scusatemi, non ho fatto già. Cioè, non era questo aggeggio qui? E il capanno di corrieri? Ah, infatti, me l'ha spuntato. Poi usa telecinesi come potere per consegnare i pacchi alle cassette postali in tutta la città. Eh? Ah, forse, forse questi, sono questi sacchi. sì, 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 è vero. Quindi, devo utilizzare telecinesi, lo prendo. E da chi lo devo portare? Me lo segnalo di verde. Eccolo qui. in questo punto che c'è una cassetta della posta, e poi l'altro che è qua, lo portiamo da quest'altra parte. Ottimo. Mi sono ne fatta, penso. Ricevi 5 crediti. Beh, nulla di che, ci mancherebbe. E poi la costruzione della capanna di corrieri finisce presto. Ah, quindi tipo, viene istante costruita. Eh sì, beh, ho velocizzato tutto. Qui poi altri tre slot liberi, forse dell'ordine, e poi qua c'è una scelta, o una o l'altra. Quindi scienza dell'ordine, o scienza della pace. Vediamo un attimino. La prima ci sbrocca la prigione, che sì, sarebbe utile. La seconda, centro di riabilitazione. Eh, allora, sarebbe meglio la seconda, però se io vado a riabilitare quelli che mi fanno arrabbiare perché tirano le moltov sui miei edifici, cioè, sinceramente io, in passato, gli ho tirato un fulmine in faccia, quindi, diciamo che sono stato un pochettino cattivello. Il fatto è che se poi li vado a riabilitare, escono, e rifanno lo stesso casino, e mi tocca di nuovo usare il fulmine, e non va bene. Quindi, sinceramente, io vado di prigione, assolutamente. Andiamo, dai. Prossima cosa, sblocca il capano degli ingegneri medievali. Buono. Dico buono, però non voglio dire, insomma, non so cosa faccia il capano degli ingegneri medievali. Gli ingegneri sono quelli che costruiscono tutto, che sono rimasti indietro, non sono ancora medievali, efficienti, più che più efficaci. E signori, i magazzini si stanno riempendo, questo qui che l'ultimo ho fatto sta a 62, questo nuovo sta quasi a 200, e si sono belli riempiti, ho fatto proprio bene a metterli. Anche questo, 247 su 300, raga, cioè, praticamente ho fatto quanti? 4 magazzini in più e non ci bastano. Quante cavolo di risorse ho buttato, veramente? Devo anche farne altri a questo punto. Sbloccato anche il governo, che non ho mai dato nessuna struttura? Però, ah no, perché posso migliorare questo, ok? Quindi possiamo fare il municipio livello 2? Sì, questo è livello 2, perché inizialmente era proprio questo con le corna, cioè, tutti edifici medievali c'è ancora questo coso qui con le corna di mammut, un po' fuori luogo. Il prossimo è proprio il cementificio. E sto notando che la popolazione è diventata pure felice con una probabilità di gemelli del più 10%, ed è per questo che non si sono viste rivolte oggi, che poi, secondo me, perché sentivano l'odore delle prigioni. Miscelazione del cemento fatta. Andiamo qui e, bam, sbloccato. Cementificio, 7 di corrente, consuma 10 di acqua e emissioni di CO2. Però, raga, ci serve e c'è poco da fare. Lo vado a mettere qua in fondo che magari dà noia un po' meno persone. Ma questo, uh, ma l'ha tradotto. Scatola mistica. Ma è sempre, è sempre la stessa cosa. Forse l'aveva tradotta sin da subito, allora. Beh, apriamo. Un altro pezzo. Torre pendente. Ma è la mia. Ma è veramente ciò che penso? Dovrebbe essere in ricreazione, forse? No, in legendary. Ah, sì, c'è veramente, guardate. Devo farlo assolutamente. Mentre delle altre, cos'è che abbiamo? Di questo due pezzi, un pezzo, zero e zero. Mmm, ci vorrà ancora un pochettino. Siccome stiamo costruendo il primo, ma per me il primo, magari anche gli altri usano l'elettricità che appunto usa corrente, vorrei fare qualcosettina in più. Quindi, qua abbiamo una batteria, ne vado a mettere un'altra in questo punto. Intanto qua guardiamo, sì, dice che si sta caricando, però, raga, se si stesse caricando e basta, sarebbe già al 100%. Secondo me c'è anche qualcosa che effettivamente consuma. Forza dell'ordine ricerca completata, anche questa qua, ottimo. E alla fine facciamo prima quella dell'altra. Quindi, stazione di polizia, consuma anche questa corrente, consuma acqua, dà due puntini veri sul crimine, quindi fa diminuire il crimine e sulle afflicità non dice nulla. Beh, un po' me. però va fatta e la mettiamo fuori città? No, vorrei metterla a centrale ma non c'è più spazio qui. Invece, forse sì. No, non c'è più spazio. E allora, si mette qui, accanto alla caserma che deve ancora essere costruita. Questo cos'è che vuole? Ok, tutte cose fattibili. Che hanno fatto? Quasi. Tornando al discorso di prima, voglio anche mettere un pochettino più di turbine e oli, che ne ho messa una lì, una qua. Guardate che le turbine e oli che boh, cioè nel senso, sì, ok, per ora, ma poi non so se voglio continuare a lasciare queste qua. Comunque, le mettiamo a favore di vento, ovviamente. E ne vorrei mettere anche un'altra da qualche altra parte. Le mettiamo qui, così. Ma questo edificio è normale che sia così storto? È residenziale, sì, ma insomma, normale no, non lo è. Ma poi il municipio, e questo? Uh, sì, e questo qua, che bello che è diventato. E ci manca il ministero del cibo e il ministero dell'acqua. Cosa fanno? Non lo so, boh, prendiamo persone a caso, magari, ecco, appunto istruite e anche affini, tipo ministero del cibo, boh, io sinceramente ci metterei un golosone istruito. Mentre ministro dell'acqua, che ci mettiamo? Un sempre, ovviamente, istruito, ma fedele, perché giustamente bisogna mettere i fedeli in politica, così ci danno anche più punti, magari. Non so, probabilmente vanno a gestire qualcosa, ma non so come funzioni. Questo ministro posizionerà automaticamente gli edifici per la generazione del... Ah, in base alle esigenze della sua civiltà, quindi, se c'è bisogno di, più acqua, più robe così, che io ogni volta non ci capisco mai nulla di quanta acqua serve e non serve altro, lui le va a posonare al posto mio. In questo caso, gestisce pompa dell'acqua e serbatoio. Mentre quello del cibo, capana del cacciatore, ottimo, azienda agricola, ottimo, e moli da pescatori, che per ora ne avevamo solo uno. E io ho sempre detto, boh, secondo me basta, ma magari no. Qui ha finito? 90%, ci siamo quasi per il cementificio, ed eccolo qua. Allora, assegniamo gente totalmente a caso, e vediamo, risorse richieste, mattoni e petrolio e produce cemento. Raga, io ho un problema, non penso di aver mai stato petrolio, non so nemmeno se lo posso produrre. Cementificio, lavorazione del vetro, falegnameria e raffineria della pietra. Forse è gestione delle risorse. Eccolo qua, pompa perolifera. Se faccio così mi dice quelle che ho già piazzato, in questo caso sono ovviamente un'altra cosa. Quindi, se vado qui e metto pompa perolifera, vedo che non ne ho mai messa una. Ho detto, perché dovrei estrarla? Cavolo, che rallentamento questo. Qui ce n'è 214, pochi, mille, 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 buonissimo. 600, altro mille di qua. Vabbè, penso che non ci sia molto da dire, va messa per forza in questo punto. Un buon 1168, però non ci arriva, no, non ci credo, non ci arrivano i tipi. Oh, l'ho piazzata. Cosa non ci arrivava allora? Vabbè, ho fatto, mi sembra una cazzata, ma posso cliccare a nulla. Tanto non ho spiegato nemmeno il materiale per farlo, quindi chi se ne frega. Ok, a sto giro è messa bene. Vediamo. Da questa parte poi abbiamo la domesticazione, buono, buono, buono. Possiamo fare il bestiame e qua non possiamo più andare avanti perché ci manca la botanica che probabilmente è un ramo che mi sono missato da qualche parte. Eccolo qua. Miglioramento di fattoria, slot lavoratore aggiuntivo più un appezzamento di cultura. Già che ci sono vado anche a fare cose che pensavo fossero un pochettino inutili come il calendario che insomma si è utile ma qua non pensavo lo fosse torre meteorologica mi danno non so se può interessarmi e andiamo anche a fare il ministero dell'energia così non ci mancherà mai la corrente. E c'è anche questo che vuole fare trading però oh lui ha il petrolio ma allora facciamo direttamente così dai dammi un bel un bel 20 di petrolio e io che ti do ma la legna il la pietra ti do la pietra ti do molta pietra così sei anche bello che contento 60 di pietra per 20 di petrolio noi ne abbiamo 750 di pietra che ci frega tradiamo subito così almeno possiamo cominciare a produrre un po' di cemento tempesta di fuoco imminente uh cos'è sta storia ma in tutto il pianeta e mi sa di sì stai attenti è arrivata un'ondata di caldo attenzione agli incendi ok quindi è semplicemente uh che miseria non così però non così raga faccio faccio piovere quando posso dove posso ma qua è veramente un disastro a parte c'ho i pompieri eh in teoria dovrebbero andare però finché ho 600 punti li posso anche un pochettino spendere così però non duri molto un'altra è un'ondata di caldo cioè qui è fuoco e fiamme ovunque ma invece ok sì qui sta bruciando ma spero comunque che se la possano cavare i pompieri i nostri vicini come sono messi eh da loro no eh ci mancherebbe però raga sono molto più espansi rispetto a prima no vabbè ma sta bruciando tutto no no non posso fare così raga devo devo pensarci io quella è anche la batteria ma dove stanno i pompieri dove stanno i pompieri perché non stanno facendo nulla ma guardate che casino ma no l'ho appena costruito ho fatto un mega nuvolone ovunque però fermi è passato è passato perché non c'è più quell'effetto strano ma dai ho speso un casino di punti per far piovere ovunque alla fine ne valsa la pena siamo ancora in 192 vivi più dell'inizio dell'episodio e qua stiamo producendo vetro perché ho cliccato questo non lo so vuole vedere quest'altro petrolio siamo ancora che ci manca forse ci deve arrivare il tipo che ce lo porta dall'altro villaggio può essere a questo qua nemmeno i auto priorità quindi ci metterà 20 anni per farlo ma penso che le cose in cemento la caserma gli arresti e tutte cose così li vedremo nel prossimissimo episodio e qui cosa cosa vuoi che faccia ah certo perché ho sbloccato gli ingegneri migliori e certo possiamo fare tante cose magari coprono anche uno spazio più ampio sarebbe veramente veramente ottimo magari più efficienti spazio più ampio eppure un posto in più quindi più veloce e tutto sarebbe un'ottima cosa ma con questa piccola miglioria io vi abbandono vi ricordo tutti i link importantissimi in descrizione noi ci vediamo nel prossimo episodio e quindi ciao a tutti ciao a tutti Grazie.